Ciao a tutti ed eccoci qua in Cibi Robo livello 5 e 4 Andiamo a caccia di qualcosa Cosa spai? Bene, vai, morte Allora passare da Yoshi al Cibi Sempre al suo sempre, il suo perché con i comandi Vai Ah così si vola, si è perfetto Che bingrindina Riprendiamo la manualità I comandi, ok No ma là c'era una palla Vabbè, è ormai tardi Ave, ricarichiamoci qui Bene, andiamo Checkpoint Proviamo questa minima Vieni di qua Ce l'ho la seconda batteria Ma qui cos'è Ma chi è questi? Io pensavo se potesse passare Allora Yes Peddingrindina Yes Di qua Bene Andiamo su Ottimo Prendiamo questa spazzatura Che sono cerini Andiamo di qua Di qua Allunghiamo questo cavo Sì Andiamo di sotto Un lavirento No Aspetta Bene Allunghiamo questo cavo Di qua Aspetta Aspetta Ho sbagliato Sbagliato Di qua Non c'era niente lì E cosa sono queste cose Azzurri Ce li provo Beh, ora so L'ultima volta L'ultima volta L'ultima volta Oh Chissà che è Boh Ah Forse devo prendere I simboli Intanto qui No Per Peddingrindensi Ecco qui c'è Livello segreto Ho sbagliato Primo Quando passano Tutti Intanto Via Ok Ce l'ho fatta Ale Cosa abbiamo vinto Oh Sì Andiamo a vedere Ah no Devo passare di lì Poi di lì Un lavirento Anche per andare a prendere Il Ehm Lo scrigno Vediamo Tutto un lavirento Oh Che snack Hai trovato lo snack Caramuccio Sembrano patatine I fiammiferini Vai Attenzione Vediamo Pochi su Pochi su Oh vai Presa Un'altra Faccio fare l'ultima ruota Viola Non lo passo meglio Chi è beccati Questo Chi è beccati Questo E voilà Andiamo in giù Allora Questo 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 Cosa sarà Ciao Minicebi Vieni Preso Ok Checkpoint Rotolo Di cartigiano Finito Ricarichiamoci Carica Carica presa Poi Di qua Questo livello Mi sa Mi sa che è un po' Lundino Vai Ecco Bene A piacere A piacere A me male A me male A me questo L'ho preso Ok E che c'è Ah e se lo sapevo prima Aspetta però Va vedi Ah Niente Non c'è niente Magari percorrendo Lo sbloccavo Qualche cosa Andiamo avanti Vediamo che cosa Ci attende Qui Quindi Troppo Beh niente Non da per Forza Va sotto Sto passando Ok Barra Vai Un altro Fatto fuori Qui c'è Quello Per Donare L'extraterrestre Portare L'extraterrestre A casa Eccoli C'è il triangolo Venuti Vi aspetto Qui Vabbè Perfetto E abbiamo preso Anche il rettangolo Queste chiavi Da prendere Vai Muori Perfetto Checkpoint E andiamo in su Scensore Prendere La scensore Allora Di qua c'è altra roba Cosa vedo Nei miei occhi Aspetta Vai La botta Suprema Vai Andiamo sopra A prendere L'ascensore Via Ascensore Altra livello Infinito Questo livello Questo livello Il piccato Ci sono labirinti Labirinti E ancora Guarda Siamo qui Siamo di nuovo A quel punto Che vedevo bloccato All'inizio Quasi all'inizio Allora Abbiamo trovato Il triangolo Qui abbiamo il triangolo Trovato E il quadrato Ci manca Il rombo E il ton Per aprire La botta centrale Allora Ritorniamo di sotto Perché No aspetta Di qua A destra Perché prima So dai Giù Le vado a destra Mamma mia Rezio Toschiata Aspetta Fammi andare di sopra No c'è un mini Cibi Cibi Preso Eccolo lì Il tondo Yes E voilà Mi manca solo Il rombo No rombo Rombo è basso Aspetta Andiamo di sotto Bene Cinque Ah ma qui Aspetta un po' Qui E dove è prima Forse provando A sinistra E qui Dove ero prima Andiamo di corsa Labirinto 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 Allora Fammi vedere Aspetta 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 No Scusa Scusa Perfetto Perfetto Lungate Dell'altro Il cavo Allora Ritorniamo in su Andiamo a destra Vedi 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 Lassù C'è qualche cosa Adesso è rimasto Lo cavo Vabbè Niente In questo Labirinto Proseguiamo Qua a destra Devo tra il passaggio Qua a destra Il passaggio Non c'è mica Un passaggio Niente Vabbè Eccolo qua Trovato il passaggio Nascosto Ma trovato il passaggio Finalmente Oh eccoli qui Però non c'è L'altra chiave Ah si Eccola qua Meno male Ah c'è il muro Ale Presa Anche La chiave rombo Quindi dovrei essere a posto E se ci siamo Non c'è un ascensore Quindi Prendiamo quello Ma tanto rompiamo tutto Ecco Insaliamo Vai E questa è la prima parte di livello Pensate a voi Ah Poi Vai dritto Vai Ale Mettere il rumbo Acceso Acceso Mettere cerchio Acceso Ho aperto Il passaggio Oh erano buone le chiave Non rompete Dai Possiamo andare No ancora no C'è sempre firmato Ok dopo che ha esultato Bene possiamo andare Ma non c'è tipo Ricarica energia Era di là Sembrava fosse vicino Vabbè Pronto c'è la batteria ausiliaria Andiamo giù Iuppi Eh Che è Attenzione Firmato Partito Abbassa la testa Cibi Abbassa la testa Ottimo Bravo Cibi Ma dove stiamo andando Dove Siamo Oh Però qui c'è il cariatone Vieni Sì Vieni Ale Eh Eh Mi sa malina Eh Buono Via C'è il momento Via questa lattina di mezzo Mi dà innoia Tutta gente Su Dici Andiamo Tu mi fa Oh ma lassù c'è lo scritto Intanto Beccati Questo Ma che ne so Vieni Aspetta Ma ma Te fossi Non fa fuori To beccati Questo To beccati Questo Ale Andiamo di sopra Che avevo visto qualche cosa Ho preso tutte Guarda che è bello Ho preso tutte e tre Le monete stella Eh E qui c'è uno scrigno Sono sopra lo scrigno Un altro snack Cos'è Una cingomma Ai Cing Quello Vai Perfetto Andiamo Avanti Tac 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 Eh ma che si sono Rigenerati Sti beccucci Spararoba Ah Le Oh Fine livello Dicà Sono anche semplici No semplice è stato semplice Però no è È stato un po' Tortuoso Un gran labirinto Oh vediamo Vai Ale Preso Il discoro Vediamo di prendere Quindi siamo il 5-4 E il 5-5 Solta Bene Ho trovato tutte e due le caramelle Tutte e tre le stelle Wow Lo manca solamente i cibi Vabbè Un cibi Non è stato malvagio poi Al sinistro livello Ma perché quando si deve andare con calma Riesce Molto tranquillo E bene Vediamo Si va Verso l'astronave Oh eccoci alla ruota Vai Ho tre tentativi Vediamo se riesco a fare 5-5 Gira Mmm No 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 Assolutamente no Ci riprovo Di nuovo Due Mamma mia no L'ultimo tentativo No Ottimo Fine E così Il prossimo 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 Benissimo Allora io vi ringrazio Per aver visto il video Fino a qua E spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un mi piace Commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Adesso Ciao Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti 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 Ciao a tutti